Bene, ben ritrovati. Siamo a una sessione che è veramente paradigmatica di tutto il Festival del Futuro, una sessione che abbiamo realizzato in collaborazione con la Commissione Europea. Questo è estremamente importante perché la Commissione Europea ha creduto nella nostra iniziativa fin dall'inizio, dall'anno scorso, nella prima edizione, è stata presente quest'anno in maniera ancora più efficace e in maniera ancora più penetrante. Quindi un grande ringraziamento innanzitutto al rappresentante italiano che è con noi tra poco della Commissione Europea per introdurre questo tema a tre punti molto veloci. Il primo è che, come è ovvio, come tutti vediamo, siamo in una crisi ma siamo in realtà in molte crisi. Ci sono alcune crisi che sono già completamente concrete ed effettuali, quella sanitaria in questo momento. In svolgimento c'è una crisi di tipo climatico, ne abbiamo parlato un'ora fa con un altro panel in collaborazione con l'Associazione Italiana del Sviluppo Sostenibile e questa crisi di tipo sanitario in qualche modo si incrocia, si intreccia a quella climatica. C'è una crisi potenziale sul debito perché la crisi, diciamo dieci anni fa, c'è stata già una crisi economico-finanziaria ma adesso si potrebbe presentare con caratteristiche diverse per il motivo che quest'altra crisi, quella sanitaria, sta imponendo degli investimenti pubblici in tutti i Paesi a sostegno dei redditi, a sostegno anche della salute stessa che stanno generando un debito internazionale molto elevato e quindi anche questa è una crisi potenziale piuttosto che non una crisi di tipo, chiamiamolo così, tecnologico legato non al tecnologia in quanto tale bensì ai suoi effetti per esempio sul mondo del lavoro ma ci sono anche altri effetti di tipo tecnologico per esempio quello della cyber security, della sicurezza dei dati e via dicendo. Queste sono alcune delle crisi che si possono intrecciare un domani a creare delle difficoltà particolari ce ne sono peraltro ancora diverse altre che in qualche modo si intrecciano e sono per esempio la crisi migratoria in questo momento in qualche modo più sotto controllo ma un domani come abbiamo sentito può riguardare centinaia di milioni di persone o addirittura un miliardo di persone per molti motivi c'è una potenziale crisi di governance mondiale con il confronto tra Stati Uniti e Cina con il confronto internazionale in diversi anche scenari e settori locali e poi insomma eventi inattesi che non fanno più parte della fantascienza perché come si sta verificando questa crisi in maniera forse prevista e prevedibile ma in realtà molto più drammatica di quello che ci si poteva aspettare un domani ci può essere una crisi legata a un evento fisico, un terremoto forse anche chi lo sa un impatto di un asteroide e via dicendo quella è la sostanza di questo primo punto è che le crisi sono un fatto con quale noi dobbiamo abituarci ad avere a che fare e prepararci il punto secondo è appunto questo, dobbiamo prepararci in che modo prepararsi ed è proprio il tema di questa tavola rotonda bisogna prepararsi perché altrimenti se non siamo preparati evidentemente non la siamo in grado di gestirle ma prepararsi che cosa significa? prepararsi in maniera totale, questo vale per le famiglie piuttosto che per un'azienda, piuttosto che per uno Stato coprirsi al 100% rispetto a un rischio, a un costo infinito non è possibile farlo e di conseguenza bisogna fare delle scelte sapere su che cosa bisogna prepararsi di più e su che cosa bisogna prepararsi magari in maniera più limitata e questa è una scelta molto difficile da fare e il terzo punto su quale tiro la vostra attenzione è che a un certo punto occorre veramente mettersi in un nuovo modo di pensare rispetto a questo essere assolutamente consapevoli che dobbiamo investire e gestire per gestire queste crisi e qui arriviamo al punto finale che è quello degli strumenti da predisporre e questa tavola rotonda che è in collaborazione appunto con la Commissione europea punta a focalizzare proprio su quello che è il nuovo modo di vedere il potenziale delle crisi e delle emergenze in Europa e naturalmente anche nel nostro Paese perché ci sono nuovi strumenti, c'è un nuovo orientamento della chiamiamola ancora nuova Commissione von Leiden e ci sono nuove normative che vanno in questa direzione bene, a questo punto vorrei presentarvi i partecipanti della tavola rotonda abbiamo con noi Massimo Gaudina che è il rappresentante italiano della Commissione europea che ringrazio molto è il nostro chairman, il chairman di questa sessione buongiorno Massimo abbiamo con noi Maria Pierdicchi grazie Maria Pierdicchi, presidente di Ned Community una grande esperta di questioni economico-finanziarie e quindi grazie per essere con noi Maria Pierdicchi abbiamo con noi Mario Nava direttore generale per le riforme alla Commissione europea grazie anche al professor Nava e abbiamo Enrico Giovannini portavoce dell'ASVIS quindi l'Associazione Sviluppo Sostenibile con quale abbiamo appena fatto la precedente sessione la sessione sul clima e che naturalmente ricorderete anche come Ministro del Lavoro alcuni anni fa e molte altre cose che non starò a ricordare quindi lascio la parola a Massimo Gaudina per dare vita alla tavola rotonda grazie grazie Enrico buonasera agli speaker buonasera agli organizzatori buonasera a tutto il pubblico e confermo che per noi come rappresentanza del Nord Italia rappresentanza Milano della Commissione europea è la seconda volta che siamo associati a questa iniziativa al Festival del Futuro e parlare di futuro fa sempre bene sia perché è una boccata di ossigeno per tutti noi anche e soprattutto in questi giorni di emergenza ma anche perché il futuro è un po' nel DNA dell'Europa sin dalla sua nascita l'Europa come sapete già nei suoi trattati è una entità che vuole essere sempre più stretta un'unione sempre più stretta un cantiere continuo sfide sempre nuove qualcuno di voi ricorderà che nel 57 quando nacque quando furono firmati i trattati di Roma l'Unione Europea anzi la comunità europea si pose l'obiettivo di realizzare entro 12 anni un'unione doganale si guardava già nel lungo periodo il mercato interno fu lanciato 8 anni prima da Jacques Delors l'unione monetaria anche questo fu un grande obiettivo proiettato verso il futuro diciamo che progettare e proiettarsi nel futuro è sempre stato nel DNA dell'Unione Europea e l'Unione Europea che nasce l'Europa che nasce come risposta a una crisi per gestire la crisi del dopoguerra nacque il processo di integrazione europea e adesso con tutte queste crisi nuove che sono state citate da Enrico Sassun pensiamo alla crisi migratoria quella finanziaria quella climatica evidentemente oltre a quella attuale alla crisi sanitaria evidentemente ci sono sfide nuove c'è bisogno di strumenti prepararsi a come gestire le sfide del futuro significa c'è qualche problema di audio? non sentiamo più Gaudina Massimo ci senti? eccomi adesso sì sì adesso ti sentiamo grazie ecco scusate non so a che punto sono caduto abbiamo perso solo qualche seconda ma posso concludere? d'accordo allora mi avvio alla conclusione e dicevo che pensare al futuro e a come prepararsi a gestire crisi ed emergenze future significa parlare di resilienza significa parlare non soltanto di azioni ma anche di organizzazioni significa pensare quindi a come prepararsi all'avvenire pensiamo quanti danni avrebbero potuto essere limitati se ci fosse stata una preparazione maggiore a tutti i livelli nella pandemia attuale ma anche in crisi precedenti e quindi la preparazione evidentemente è essenziale ascolteremo quindi tre prospettive diverse complementari convergenti si spera la prospettiva europea con Mario Nava e quindi come l'Europa sta reagendo e continuerà a reagire alla crisi la prospettiva se vogliamo dello sviluppo sostenibile quindi come lo sviluppo sostenibile comprende anche la dimensione della gestione dei rischi e delle crisi con Enrico Giovannini anche a livello di governance come le istituzioni a tutti i livelli devono pensare di organizzarsi per reagire a crisi future e per finire il mondo privato quindi come le aziende hanno subito questa crisi quali lezioni hanno appreso e come possono adattarsi anche a livello di organizzazione pensando in prospettiva futura con Maria Piervicchi ecco questo è il ricco menu e a questo punto visto che siamo già in ritardo io passerei la parola a Mario Nava che come dicevi Enrico è il nuovo direttore generale della DG Riforme della Commissione Europea da pochi mesi quindi intanto complimenti e auguri a Mario grazie 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 dottor Gaudina grazie Massimo grazie dottor Sassun grazie molto dell'invito che ho accettato con molto con molto piacere la questione delle crisi è chiaramente una delle delle più grandi questioni è una delle più grandi questioni che ci dobbiamo trovare ad affrontare e è una questione dove impariamo ogni volta questo probabilmente è il lato positivo della crisi c'è una frase usata e abusata che è una frase storica di Tolstoi in Anna Karenina dove Tolstoi dice tutte le famiglie felici sono uguali sono felici in un simile modo mentre le famiglie infelici sono infelici in modo diverso e questo è uguale la crisi è esattamente così nel senso che ogni volta cambia molto purtroppo per sfortuna questa è la seconda la terza che mi trovo a dover gestire nella mia carriera prima c'è stata la crisi finanziaria poi la crisi dell'euro e ora abbiamo questa crisi che è la crisi pandemica non sarà l'ultima purtroppo ma questa this is not the bad news se sapremo se sapremo imparare da questa se sapremo imparare da questa crisi cosa vuol dire gestire una crisi prima di tutto credo che il punto fondamentale è quello di cercare di capire se questa crisi è qual è l'origine se l'origine di questa crisi è un'origine nazionale o globale o altro tipicamente all'inizio di ogni crisi si tende a pensare che non è non è problema mio è un problema di un altro l'abbiamo visto nella crisi finanziaria il problema erano le banche del paese vicino il problema era la finanza del paese vicino e quindi prima c'è questa reazione diciamo di blocco psicologico dove si tende a si tende a passare la colpa a qualcun altro l'altro il diverso eccetera descritto benissimo da Manzoni da Camus nella peste da tutti quanti passata quella fase che prima passa meglio è ci si permette di capire cosa vogliamo cosa vogliamo fare e a quel punto a quel punto c'è il modello dell'intervento tipicamente ci sono due cose c'è l'intervento di corto periodo che necessariamente è un intervento di assistenza in economia si dice un intervento di liquidità ma insomma essenzialmente un intervento di assistenza per limitare i danni nel breve periodo e poi c'è invece l'intervento di lungo periodo che è quello su cui ci stiamo concentrando ora che è appunto un intervento che vogliamo mettere in piedi per veramente creare della resilienza nel sistema il punto fondamentale credo è proprio questo cioè il passaggio da una crisi alla resilienza il passaggio dall'evento a imparare da questo evento due giorni fa sono andato in questa maniera digitale in cui facciamo tutte le cose sono andato a Genova dove assieme all'università di Genova stiamo costruendo un manuale su cosa fare quando un anello della catena della mobilità si rompe in maniera istantanea in maniera imprevedibile l'anello si rompe ovviamente a Genova hanno una piccola esperienza su questo ecco e questo credo questo passaggio dalla crisi a prendere le lezioni della crisi a creare un movimento di resilienza sulla base della crisi è fondamentale in questa crisi visto anche il totale di risorse che in maniera molto rapida l'Europa è riuscita l'Europa è riuscita di spiegare praticamente in quattro settimane abbiamo preso decisioni che prima ci sarebbero voluti quattro anni ecco in tutto questo io credo che sia stato assolutamente decisivo il fatto che è apparso chiaro a tutti che quello che noi vogliamo fare quello che noi vogliamo finanziare non è finanziare lo status quo ma è finanziare il cambiamento e per me questo è il punto centrale cioè una vera una vera uscita dalla crisi è possibile se si esce dalla crisi con il cambiamento con la possibilità di trovare nuovi modi nuovi modi di fare dove questi nuovi modi di fare ripeto devono avere al loro interno l'elemento che ha permesso alla crisi precedente di realizzarsi e questo elemento è chiaramente l'elemento della non resilienza se una crisi è arrivata vuol dire che da qualche parte eravamo weak il dottor Sassoon diceva chiaramente non ci si può proteggere al 100% con i rischi costerebbe troppo non servirebbe a nulla verissimo però è chiaro che se una crisi è arrivata in un certo punto lì chiaramente la crisi ci ha fatto un favore di identificare una debolezza da un certo punto di vista e lavorare su questa debolezza è assolutamente essenziale ecco io credo che questi tre passaggi fondamentali dal prima il passaggio psicologico la crisi che cos'è che cosa non è di chi era la colpa eccetera poi al passaggio di come si risolve la distinzione tra il momento del tra il momento diciamo dell'assistenza immediata a quello che in medicina potrebbe essere un analgesico un painkiller e poi invece il momento del lungo periodo quindi l'elaborazione in economia delle riforme strutturali e della resilienza in medicina di un vaccino ecco io credo che questi siano i tre passaggi i tre passaggi fondamentali che stiamo facendo e devo ammettere che sono molto fiero di come l'Unione Europea ha saputo affrontare questa crisi rapidamente e decisamente entrando in aree dove non eravamo entrati prima che appunto è l'area della sanità pubblica e entrandoci in maniera molto decisa e creando per l'Unione Europea poi magari ne parleremo nel proseguo ma creando per l'Unione Europea un momento di vero cambiamento per questo dicevo prima vogliamo finanziare il cambiamento non finanziare lo status quo un momento di vero cambiamento sia dal punto di vista delle spese dell'Unione Europea e quindi di quello che l'Unione Europea fa che dal punto di vista delle entrate del modo in cui l'Unione Europea si pone davanti a una crisi del genere ecco mi fermerei qua per lasciare spazio agli altri e poi magari ci sarà un secondo giro grazie assolutamente grazie ci sarà sicuramente il secondo giro quindi abbiamo introdotto l'argomento della prospettiva europea e soprattutto il sottolineo alla espressione finanziare il cambiamento questa è probabilmente la chiave di lettura di quello che sta facendo l'Europa e adesso invece con Enrico Giovannini passiamo a un livello ancora più globale perché parliamo di sviluppo sostenibile parliamo di governance dello sviluppo sostenibile e di cosa questo significa per la futura gestione di crisi rischi ed emergenze grazie buonasera a tutti spero mi sentiate e mi vediate bene prima di sviluppare quello che il moderatore mi ha chiesto io vorrei sottolineare tre punti di quello che Marionava ha detto primo condivido in pieno l'orgoglio nel modo con cui l'Europa ha affrontato questa crisi secondo che differenza nel linguaggio nelle sottolineature che lui ha fatto rispetto al dibattito italiano che sbaglia pure il termine perché lo chiama recovery fund quando invece lo strumento è appunto di ripresa e resilienza omettere quella seconda parola vuol dire non capire la logica che l'Europa ci sta chiedendo e purtroppo l'Italia anche nel dibattito pubblico sta dimostrando di non capire terzo l'iniziativa complessiva si chiama next generation EU e di nuovo non usare questi termini vuol dire non capire quello che l'Europa vuole fare con questa straordinaria massa di risorse che sta mobilitando è stato citato il caso del ponte di Genova anch'io lo uso spesso per dire ma ci siamo fermati un momento a ragionare se su quel ponte dovesse passare pure un treno o no perché certamente dovevamo rivire rapidamente il ponte ma se noi adesso lo uso proprio come esempio rispetto al recovery resilience plan noi usiamo i fondi europei per costruire ponti senza preoccuparci di cambiare la mobilità cioè per farci passare i tir e non il traffico merci su strada io sinceramente mi auguro che la commissione bocci quel progetto avendo letto le linee guida mi aspetto che la commissione boccerà quel progetto non perché i ponti senza ferrovie non abbiano senso ma perché giustamente la commissione ci chiede non solo progetti ma riforme e quindi modifiche del sistema si può fare un intervento spendendo 77 miliardi 37% della quota italiana del next generation sull'energia sulla transizione ecologica e non pensare a riformare il mercato dell'energia no e questo mi porta proprio alla debolezza italiana e cioè non di questo governo in particolare che noi non siamo abituati da decenni a ragionare a medio o lungo termine non a caso noi da anni proponiamo la creazione di un istituto di studi sul futuro e di programmazione strategica esattamente i temi che l'ultimo rapporto della commissione europea di responsabilità del vicepresidente Shevkovic cita come un elemento fondamentale quando dice la resilienza è il nuovo compasso delle politiche dell'unione europea ci tengo particolarmente perché per quattro anni ho lavorato con il joint research center della commissione europea su queste cose e il tutto finalizzato a rimbalzare avanti in occasione delle crisi non rimbalzare indietro a dove sia per questo io non sopporto gli anglosassoni e in parte anche l'ONU che come motto ha building back better noi non dobbiamo rimbalzare indietro perché non eravamo su un sentiero di sviluppo sostenibile ma come scriviamo nei rapporti della commissione europea noi dobbiamo bounce forward cioè rimbalzare avanti usando il rimbalzo per metterci su una posizione di sviluppo sostenibile a medio e lungo termine ma la mancanza di un istituto abituato a fare questo è emersa in tutta la sua debolezza nel momento in cui il governo italiano pro tempore ha dovuto preparare e sta preparando il recovery resilience plan vedo la mia immagine bloccata non so se no è tornata la sentiamo questa difficoltà questa difficoltà è una difficoltà appunto di governance ed è una difficoltà che la commissione per concederci i fondi dovrà valutare attentamente su come l'Italia proporrà un modello di governance più adeguato anche perché ci dicono ancora le linee guida della commissione europea i 209 miliardi del recovery resilience facility vanno coordinati con i 70 miliardi dei prossimi sette anni dei fondi europei chiamiamoli ordinari e poi anche con i fondi nazionali come si fa a fare questo grande strumento questa grande operazione di coerenza delle politiche lo sviluppo sostenibile beh basterebbe aver adottato in pratica non a Parigi le raccomandazioni del consiglio dell'Ocse proprio sulla policy coherence per lo sviluppo sostenibile che ribatte esattamente questi temi come Asvis dice da alcuni anni ancora due considerazioni prima di concludere il primo elemento ha a che fare con il in rete le tante energie conoscenze competenze che questo paese ha settoriali anche sul futuro sui futuri come bisognerebbe questo festival ne è una prova esistono queste competenze ma sono sparse quindi abbiamo bisogno di metterle insieme la ultima considerazione ha a che fare con il tema del monitoraggio dello sviluppo dei modelli perché tutto questo non si fa semplicemente a parole si fa con un investimento in ricerca un investimento in dati in statistiche in modelli e qui la mia raccomandazione alla commissione europea il joint research center della commissione europea ha moltissimi modelli ha moltissimi dati ha moltissima espertisa e quindi mi rivolgo a marionava proprio con per capire come questa straordinaria ricchezza possa essere messa a disposizione dei paesi anche per avere schemi omogenei per valutare le politiche infatti e con questo concludo l'ASVIS sta proponendo al governo anche nei miei incontri con alcuni ministri di analizzare tutti i progetti e le proposte del piano nazionale di ripresa e resilienza alla luce dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che l'Europa con la commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha messo al centro di tutte le proprie politiche quindi tutto si salda tutto si può tenere insieme grazie grazie professor Giovannini c'è un riferimento al dottor Nava al quale poi si potrà rispondere al prossimo giro se siete d'accordo interessantissimo riferimento al JRC che da anni sta facendo questo lavoro di strategic foresight di previsione verso il futuro strategico appunto e che effettivamente dentro la commissione posso assicurare circola ed è conosciuto bisogna fare in modo che ci sia un impatto anche ad altri livelli effettivamente ma abbiamo parlato di come le istituzioni pubbliche a vari livelli interagiscono e dovranno interagire in futuro per prepararsi alla resilienza e alla gestione futura delle crisi e adesso è il momento di ascoltare la voce del mondo dell'azienda con la dottoressa Maria Pedricchi che è la direttrice di questo network della NED Community dottoressa Pedricchi a lei buonasera a tutti non so se mi vedete perché vedo la mia immagine sullo schermo ma spero che mi possiate sentire se mi confermate che vi arriva bene il mio suono se vediamo ti sentiamo va tutto bene sì è regolare ok perfetto innanzitutto vorrei ringraziare Enrico Sassoon perfetto vorrei ringraziare Enrico Sassoon Festival del Futuro per questa occasione di scambio su questo tema importante delle crisi e ripresando quanto accennava Mario Nava ogni crisi è diversa ne abbiamo vissute molte anche io personalmente ne ho vissute almeno due o tre e ogni crisi ci insegna molte cose la mia prospettiva è un po' delle aziende delle aziende grandi quotate ma anche delle piccole familiari di cui raccogliamo il feedback in ed community ma anche io come consigliere in alcuni gruppi ho avuto modo di partecipare alla gestione di questa crisi questa crisi è nata da un fatto da materializzazione di un rischio non finanziario quindi ci ha portato tutte le aziende potentemente di fronte a un qualcosa di totalmente inatteso ma di molto incisivo di molto profondo e ha scatenato una serie di reazioni molto diverse da un lato abbiamo visto una grande capacità di reazione soprattutto là dove la leadership del vertici e questo l'abbiamo visto proprio anche a livello di governance delle aziende dove la leadership è stata subito capace di reagire immediatamente mettendo in atto prima di tutto la gestione dell'emergenza che sembrava essere magari una questione di breve termine in realtà sta diventando un fattore quasi strutturale perché oggi siamo di nuovo in emergenza con la seconda wave siamo più preparati di prima ma certamente non abbiamo un orizzonte chiaro di quando questa emergenza di quando questa continuità in remoto finirà ha portato certamente a una reazione anche in termini di agilità flessibilità e di nuovi strumenti per affrontare questa crisi molte aziende erano preparate non tutte erano pronte la preparazione riguardava fondamentalmente le continuity plan la capacità di mettere appunto il lavoro in remoto di rispondere in termini di protezione dei dipendenti protezione dei clienti modalità di business nuove là dove si potevano attuare perché ricordiamo alcuni settori sono stati potentemente bloccati da questa crisi ma poi dalla gestione della crisi sempre di più si è ampliata la capacità di reazione anche di presa d'atto dei cambiamenti che stavano avvenendo cambiamenti in termini di accelerazione di certi processi di cambiamento che oggi sono oramai un dato di fatto con cui ci dovremmo confrontare nel medio termine quindi una nuova capacità soprattutto una potente scossa alla governance delle aziende in termini di agilità del board di capacità di interagire in un modo diverso più di sostegno al management ma anche di giusto ascolto degli stakeholder sono entrati molto di più nelle considerazioni della governance di tante società quindi collegamento con le comunità locali con il collegamento con i bisogni dei nostri dipendenti dei nostri clienti e via dicendo ma anche il ruolo degli scenari perché ci siamo trovati di fronte a degli scenari totalmente nuovi sconosciuti dove anche esperti virologi e altri strumenti diciamo statistici hanno avuto un ruolo importante e si sono dovuti confrontare in un contesto di governance che non era assolutamente ancora diciamo abituato a questo modo di reagire io credo che abbiamo visto delle aziende reagire molto bene dando una grande prova di leadership di reazione e di capacità di adattamento e aziende soprattutto più piccole che invece hanno un po' stentato a capire la gravità della situazione e sono partite un po' in ritardo c'è da dire che l'economia è anche fondata molto su piccole e medie aziende dove da un lato abbiamo una grande capacità di reazione degli imprenditori dall'altro abbiamo una maggiore dipendenza anche dai sistemi di sostegno quindi in Italia che cosa abbiamo visto senz'altro una reazione molto importante europea che si è anche tradotta in maggiore in Italia però anche una maggiore dipendenza dai sostegni finanziari dalle garanzie pubbliche se io guardo le aziende italiane sono molto più oggi dipendono molto di più da garanzie moratorie garanzie pubbliche di diverso genere che non per esempio le aziende tedesche non solo tutti questi sistemi di sostegno sono stati erogati in una modalità estremamente burocratica difficile farraginosa che ha messo anche gli istituti di credito non in una facile posizione per poter sostenere l'economia attraverso gli strumenti eccezionali che sono stati messi a punto quindi anche qui diciamo un po' la debolezza di alcuni fattori tipicamente italiani burocrazia implementazione difficile farraginosa forse troppe misure poco chiare ha reso un po' più difficile l'accesso al sostegno da parte delle aziende ciò non sta a dire abbiamo visto aziende reagire molto bene anche in termini di di traslazione di quella che è la gestione dell'emergenza in un monitoraggio continuo della continuità e nell'inizio di una ridefinizione delle strategie ecco io credo che due lezioni importanti da questa crisi sono già entrate nel DNA della governance e anche del management delle aziende uno è l'accelerazione dei cambiamenti che la crisi porta uno è la digitalizzazione non solo la gestione dello smart working che non vuol dire lavoro in remoto vuol dire inventarsi una nuova modalità di operare di motivare di attrarre i nostri talenti di farli crescere e di inserirli in un contesto che sia veramente motivante e anche accompagnato da nuovi valori il secondo è proprio il tema dei valori questa crisi è stata vissuta e gestita meglio là dove la governance era sostenuta da forti valori di ascolto degli stakeholders di protezione dei dipendenti ma anche di visione di come il mercato sarebbe cambiato in questa crisi cosa che ancora non abbiamo chiarissimo perché stiamo entrando nella seconda wave con molte incognite ma che comincia a entrare nella ridefinizione di piani strategici che sempre di più devono tener conto dei fattori ISG perché questa crisi nasce da uno squilibrio che è ben definito dai colleghi prima ma ci fa anche capire quanto importante è lavorare sui fattori ISG nel loro complesso e integrarli sempre di più nelle strategie strategie che dovremmo andare a definire nei paesi non senza qualche incertezza e qualche definizione di scenario e quindi non solo il tema environmental e climate change che sempre di più vediamo essere motivo importante di discussione a livello di governance ma anche vorrei sottolineare molto il fattore social che è forse quello più trascurato oggi abbiamo visto molte aziende non dare abbastanza ascolto per esempio ai dipendenti alle comunità e poi credo che il fattore social l'importanza del capitale umano l'importanza della nuova modalità di lavoro e di interazione con gli stakeholders sarà veramente uno dei fattori importanti da integrare nelle strategie e infine la stessa governance quindi sviluppa delle competenze maggiori nei board in materia di ISG ma anche in materia di digitalizzazione di tecnologia e di gestione dei rischi perché questo rischio ci ha dimostrato che per quanto abbiamo tanti piani di continuità tante analisi di rischio tante analisi di impatto i rischi si nascondono sempre nei fattori forse meno conosciuti e quando si materializzano mettono a dura prova la capacità di resilienza che oggi è sicuramente molto aumentata ma che ancora si dovrà esplicitare nella previsione e nella capacità di affrontare le prossime crisi che inevitabilmente verranno poi magari su questo vorrei magari soffermarmi nel prossimo sì grazie dottoressa Pierdicchi molto interessante questo intervento perché ci ha fatto capire chiaramente che ci sono due livelli in cui è richiesto un salto qualitativo quello molto pratico e concreto e pragmatico dell'accelerazione della digitalizzazione del management e poi c'è tutto questo discorso invece valoriale sui valori su un ruolo più ampio che anche le imprese saranno chiamate a ricoprire sempre di più sull'importanza del capitale umano e mi sento di dire che forse su questo sui valori sul capitale umano e su seconda dimensione l'Europa probabilmente ha un passato e ha un un background che ci porta a dire che su questo le aziende europee possono pienamente giocare la partita e non soltanto sul lato prettamente pragmatico ma questa è una considerazione assolutamente personale però lei ha citato un'altra cosa molto importante e cioè il fatto che il mercato è cambiato e che le aziende dipendono più di prima dal sostegno pubblico dal sostegno finanziario anche pubblico che si parli di Europa che si parli di Stati si parli anche di altri livelli di intervento ma questo è uno dei punti critici più interessanti degli anni a venire perché c'è chi sostiene che questa crisi e la preparazione alle future crisi che arriveranno porterà ad avere una presenza più forte del settore pubblico nella vita economica dei nostri paesi su questo vorrei sentire l'opinione in ordine inverso quindi partendo dalla dottoressa Pierdicchi per capire se questo è vero secondo voi se questo è necessariamente positivo o negativo e insomma quali implicazioni vedete su questa dimensione con la postilla che c'è un interessante ruolo da vedere anche su quello che succede nei mercati finanziari perché anche qui ci sono dei cambiamenti molto profondi in corso e ne parlerete sicuramente dottoressa Pierdicchi ma guardi per quanto riguarda il discorso io credo che il settore pubblico deve entrare in una fase così difficile così anche in attesa di fronte a fattori esogeni come questi però deve accompagnare nella gestione della crisi non può sostituirsi al settore privato deve aiutare il settore privato a passare in momento difficile e a dare degli strumenti per il cambiamento ma non può a mio modo di vedere almeno personale sostituirsi che cosa può fare può diciamo sfruttare la crisi anche con il recovery con tutti i grandi strumenti che l'Europa ha messo in moto lei giustamente ha sottolineato l'Europa sta mostrando una leadership unica al mondo in questo campo di coesione di risposta di accelerazione del cambiamento ecco bisogna mettere in atto dal punto di vista del sistema pubblico tutte quelle riforme che aiutino che agevolino il cambiamento anche delle imprese quindi la tecnologia sicuramente tutto quella infrastruttura digitale per far sì che la digitalizzazione diventi assolutamente un elemento fondamentale per la competizione del futuro pensiamo alle aziende che non sono ancora digitalizzate che non sono ancora online ma che devono assolutamente se vogliono mantenere il loro livello di competitività muoversi pensiamo anche diciamo a quello che è il sostegno del dialogo con gli stakeholders per far sì che non ci sia più una visione solo shareholder centered ma anche di ascolto e di risposta agli stakeholders quindi all'impatto che l'azienda ha sul territorio sulle comunità con cui opera alla catena di fornitura alla ridefinizione di modelli di business che siano più sostenibili ma anche più in linea con le capacità competitive dell'Italia che è fatta di piccole e medie imprese quindi tutti i servizi che possono aiutare queste imprese non solo a consolidarsi ma essere competitive in una struttura di rete in un mondo che diventa sempre più più complesso e più diciamo anche che deve poter contare di più sulla controllo della catena di fornitura e sulla sostenibilità della stessa e poi direi anche molto focalizzazione sulle persone quindi dare quegli strumenti che permettano al capitale umano di essere uno strumento competitivo e quindi istruzione educazione ricerca in Italia possiamo fare tantissimo abbiamo i migliori cervelli al mondo e purtroppo li abbiamo sparsi in tutto il mondo e meno in Italia quindi quello che il pubblico può fare è lavorare secondo me su questi filoni digitalizzate infrastrutture capitale umano istruzione ricerca naturalmente sanità perché questo è ovvio che abbiamo visto i limiti del nostro sistema sanitario ancorché con tanti punti di eccellenza però abbiamo visto i limiti di una struttura di servizi inadeguata e inoltre penso che dovremmo in qualche modo anche pensare al pubblico in termini di sostegno finanziario almeno temporaneo ma di aiutare il sistema bancario e quindi tutto quello che è diciamo che sono questi strumenti di sostegno a essere più possibile flessibili a non essere diciamo bloccati da delle regolamentazioni troppo rigide che sappiamo in Europa in particolare per il sistema bancario hanno proceduto molto velocemente ma invece di lavorare a un mercato veramente europeo dove le imprese possano avere accesso al mercato di debito e di equiti su piattaforme europee allo stesso livello a termini competitivi e quindi all'apertura di una grande piattaforma europea che ancora oggi non ha tutti quegli elementi di integrazione che dovrebbe avere e quindi al mercato veramente dei capitali europei in senso diciamo al completamento del progetto del mercato europeo questo non può che facilitare le imprese italiane ed è qui che vedo un ruolo importante dei regolatori e naturalmente anche dei politici Grazie Professor Giovannini l'impatto dello sviluppo sostenibile sul ruolo del pubblico nell'economia Ma intanto una parola sul ruolo del privato secondo i dati Istat pubblicati mesi fa le imprese che avevano scelto la sostenibilità prima della crisi a maggio avevano in una quota superiore a quella media già deciso come ripartire verso dove andare e questo mi sembra un segnale molto importante statisticamente non stiamo parlando di un sondaggio fatto su mille telefonate ma parliamo di migliaia e migliaia di questionari la scelta per lo sviluppo sostenibile rende più resilienti le imprese non solo più produttive ma anche più resilienti e poiché gli shock futuri sono da prevedere e da scontare qui abbiamo bisogno di un cambiamento profondo di mentalità su questo non sono molto d'accordo con la stessa Pietricchi non sono esogeni sono endogeni sono provocati dal modello di sviluppo che abbiamo seguito negli ultimi 40 anni che finché era relegato diciamo a qualche centinaio di milioni di persone gli altri morivano di fame diciamo così sembrava funzionare quando è stato portato a scala planetaria ci siamo accorti che abbiamo solo un pianeta e non 4 o 5 come invece il modo la quantità di produzione di consumi eccetera presupponeva questa è un'implicazione importante nel cambio di modello nel libro con Fabrizio Barca quel mondo diverso pubblicato qualche settimana fa entriamo proprio in profondità sul perché il capitalismo come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni non il capitalismo in generale perché il capitalismo è cambiato nei decenni non è adeguato allo sviluppo sostenibile del ventunesimo secolo e queste cose si discutevano penso al World Economic Forum anche prima dello scoppio della pandemia naturalmente bisogna rendersi conto che non ci sono solo i shareholders cioè gli azionisti ma anche gli stakeholders cioè il resto della società esattamente quello che è stato rifiutato con la trasformazione neoliberista in senso tacceriano e reganiano se volete 40 anni fa e l'Europa ha una straordinaria opportunità di inventare un nuovo modello invece di copiare quello sviluppato magari in alcuni paesi anglosassoni questa è l'enorme sfida culturale che la commissione ci sta indicando in più invito ancora una volta a leggere attentamente i documenti della commissione del consiglio perché lo vorrei sottolineare c'è un passo degli ultimi sono le ultime 4-5 righe Mario Nava credo le conosca a memoria delle conclusioni del consiglio europeo di aprile che dice la resilienza è il nuovo riferimento delle politiche e chiediamo alla commissione europea di dirci come ci prepariamo alle future crisi questo è un cambiamento epocale della funzione della commissione europea che non deve soltanto spingere verso una uniformità di normative e così via ma deve pensarsi come un soggetto come ha fatto che mette sul campo interventi e non a caso nell'aumento del bilancio concordato tra consiglio commissione e parlamento nei giorni scorsi tra i 16 miliardi che il parlamento diciamo così ha strappato come accordo un miliardo la commissione lo vuole dedicare esattamente ai temi della gestione della crisi perché Ursula von der Leyen ha tweetato chiaramente un giorno troveremo il vaccino contro il covid ma non c'è vaccino contro il cambiamento climatico e tutti gli altri shock questo cambiamento di mentalità che rende endogenei gli shock richiede un cambiamento profondo non solo della governance europea e di nuovo sono molto contento che la commissione stia perseguendo questo approccio ma anche nelle imprese ma anche nel pubblico perché se il pubblico a questo punto si sente meno gli stakeholders di quello che finalmente le imprese si apprestano a fare è chiaro che non ci siamo siamo caduti dalla padella nella brace ultimo riferimento l'innovazione finanziaria un'altra scelta fondamentale straordinaria della commissione europea non scontata non obbligatoria è stata quella di finanziare SURE cioè il fondo per aiutare con cassa integrazione sul sito di disoccupazione attraverso social bonds e 75% del next generation EU attraverso green bonds questo farà sì che l'unione europea diventerà la più importante emittente di questo tipo di titoli nel mondo ed è interessante la discussione che si sta tenendo all'interno del board della BCE oggi il presidente della Bundesbank è intervenuto su questo tema al Financial Times perché si discute se la mitica neutralità di mercato che impedisce alle banche centrali di scegliere su quali titoli acquistare per esempio sul mercato secondario per immettere liquidità debba invece tenere presente anche i criteri ESG che alcune banche già usano quando allocano le loro attività questo è un punto importante Mario Nava tra l'altro ha lavorato tantissimo su questi temi prima di assumere questo incarico e il 2021 dovrebbe essere un anno di svolta per la finanza sostenibile di nuovo con una Unione Europea all'avanguardia internazionale Grazie professore grazie per aver ancora sottolineato tra le tante cose il ruolo della scienza e quindi dell'evidence based processo decisionale che dovrebbe sempre basarsi su un'evidenza scientifica e su basi solide e non su percezioni o visioni di breve periodo è una delle cose che ho notato ce ne sono tantissime i mercati finanziari innovazione finanziaria il dottor Nava se ne è occupato come si diceva perché prima di diventare direttore generale per le riforme era direttore in questo settore molto tranquillo probabilmente si fa per dire che erano i mercati finanziari grazie mille dottor Gaudina fatemi fare intanto mi ringrazio di poter intervenire a questo punto per ultimo per aver sentito veramente moltissimi stimoli ma volevo provare a fare tre tipi di considerazioni la prima è che sicuramente l'articolazione della politica economica è cambiata ma non è cambiata con la pandemia io credo che il cambiamento viene un po' da prima ripeto le tre crisi dove noi tre abbiamo vissuto quindi 2008 2012 e 2020 2008 il tipo di reazione è stata soprattutto una reazione regolamentare chiaramente Maria Pierdicchi e io abbiamo visioni diverse su se abbiamo stretto troppo poco la vita questo poco importa ma abbiamo fatto una reazione regolamentare che ha permesso alle banche di mettersi in sicurezza e che ha solidificato fortissimamente i servizi finanziari e i mercati finanziari e poi arriva il 2012 e lì ci rendiamo conto come diceva bene il professor Giovannini che reazione regolamentare va bene però può non bastare e lì nel 2013 2014 la commissione varca il rubicone dell'azione economica varca il rubicone della politica di domanda ma lo fa in un modo interessante che è quello che diceva la dottoressa Pierdicchi senza sostituirsi al privato lo fa attraverso lo Juncker Plan dove essenzialmente la commissione cambia molto leggermente di un sedicesimo l'equazione rischio rendimento offre un sedicesimo di denaro pubblico a fronte di 15 parti di denaro privato quindi non si sostituisce fa solo un leggerissimo intervento e questo ovviamente permette di cambiare subito sia la percezione del rischio che la percezione delle opportunità per l'investimento in Europa e essenzialmente inizia una fase dove si chiude in maniera abbastanza chiara l'investment gap quindi questo è il primo passaggio che è stato quello dove da una politica solo regolamentare siamo intervenuti in una politica abbiamo cominciato a fare una politica di domanda ma poi il secondo passaggio direi l'ha sottolineato benissimo il professor Giovannini è quello successivo dove si capisce che l'investimento va benissimo ma non vogliamo non vogliamo building back back better assolutamente no noi vogliamo finanziare il cambiamento finanziare il futuro guardate che l'RRF che diamo cosa vuol dire RRF non vuol dire recovery and resilience facility non fund facility la differenza tra facility e fund è molto grossa il fund sta nel trattato in genere based la facility è performance based quindi il punto 21 delle conclusioni del consiglio del 21 luglio 2020 dice che i pagamenti della facility avverranno upon satisfactory fulfillment of milestone and targets questo è un punto fondamentale da tenere a mente e questo fa capire qual è la logica della facility ma quindi ritornando al punto nel momento in cui si fa si decide di fare una facility si decide di farla proprio per come con lo Juncker plan volevamo cambiare il rapporto privato pubblico e diciamo c'era un ruolo delle istituzioni europee che prima era più tipico delle istituzioni nazionali qui succede la stessa cosa ma accoppiandoci l'elemento riforma che diventa a questo punto decisivo la famosa frase vogliamo finanziare il cambiamento e non lo status quo e quindi il legame è tutto qua ma la riforma cosa vuol dire la riforma vuol dire evitare come dicevo prima evitare di farsi trovare impreparati quindi certamente sì la resilienza è al centro dell'elemento della riforma ed è al centro dell'elemento della riforma perché si vuole fare in modo che la prossima crisi possa se non essere anticipata quantomeno possiamo avere gli strumenti per farci fronte e in questo senso ci sono almeno credo due grosse novità appunto nell'agire di politica economica uno è quella a cui faceva riferimento nel suo primo intervento il professor Giovannini che è lo strategic foresight lanciato dal GRC dal centro comune di ricerca europeo e lo strategic foresight guardate che quella è una novità notevolissima è arrivata la professoressa la presidente von der Leyen e quello che ha voluto fare immediatamente è fare questo rapporto sul foresight del futuro sono sicuro che se lo rileggiamo fra cinque anni quello che abbiamo pubblicato oggi un po' di cose non saranno giuste un po' di cose saranno sbagliate però il fatto di porsi questo e di farlo come ha detto lei dottor Gaudina evidence based quindi sulla base della sulla base della scienza che abbiamo a disposizione è fondamentale il GRC è una direzione generale della commissione europea è chiaramente a disposizione della commissione europea lavora anche con gli stati membri aiuta gli stati membri io credo che però sia importante sottolineare una cosa che per tutte le riforme uno degli elementi più essenziali di una riforma riuscita è la proprietà degli stati membri gli stati membri devono essere proprietari devono essere owner devono essere committed alla loro propria riforma che fanno quindi l'Unione europea ovviamente può aiutare può suggerire può supportare può fare tutto questo immaginabile ma è assolutamente necessario che gli stati membri prendano come dire coscienza responsabilità e determinazione nel fare la propria riforma ma avendo messo tutto questo assieme oserei dire che abbiamo siamo sostanzialmente arrivati ad un punto dove in un colpo solo diciamo da aprile a oggi la commissione europea ha fatto sia il momento marshaliano che il momento hamiltoniano il momento marshaliano è stato fatto con la decisione delle spese cioè questa decisione di spese appunto che prima non c'era l'aumento l'aumento dei fondi a disposizione è stato massiccio è un aumento dei fondi a disposizione come il titolo del vostro programma che guarda al futuro si chiama next generation EU uno dei motivi per cui si chiama next generation EU è perché appunto i fondi verranno spesi da adesso al 2026 e saranno ripagati dal 2028 al 2058 ciascuno di noi si faccia il conto di quanti anni avrà nel 2058 e ci rendiamo conto che chi lo pagherà nel 2058 sarà appunto la next generation EU questo è il modello marshaliano spese per un modello di finanza sostenibile che funziona nel 2058 e qui sono assolutamente d'accordo col professor Giovannini se noi facciamo dobbiamo fare delle spese delle infrastrutture che funzionino e che rendano valore nel 2058 ma devono essere assolutamente sostenibili qualcuno può immaginare che investendo in tecnologie che già oggigiorno vengono considerate un attimino obsolete non voglio fare riferimento a nulla ma sappiamo tutti di cosa stiamo parlando quello possa dare valore nel 2058 ma chi ci investe nel 2058 saremo quasi all'età nel 2060 dove più o meno i nostri figli andranno in pensione quindi loro dovranno ricavare un ritorno finanziario da un investimento in assets che abbiano valore nel 2050 nel 2058 nel 2060 quindi credo che la sostenibilità sia assolutamente un valore ineludibile e irrinunciabile e in un certo senso credo che questa pandemia ci ha fatto vedere ci ha fatto vedere quanto se non c'è sostenibilità si corrono dei rischi enormi e poi l'altro punto dove è cambiato veramente l'agire di politica economica è certamente lo sottolineava brevemente il professor Giovannini è anche il lato delle entrate il cosiddetto momento hamiltoniano c'è l'emissione di bond c'è l'emissione di bond europei emissione che il mercato mostra di gradire la prima emissione che abbiamo fatto di Shure abbiamo chiesto 17 miliardi di social bond il mercato ce ne ha offerti 224 fate un po' 224 diviso 17 vuol dire 13-14 volte quello che abbiamo domandato certo direte voi era facile erano anni che ve lo chiedevano verissimo verissimo io come diceva il dottor Gaudina nella mia vita precedente facevo i road show in giro per il middle east o l'east totale o il far east a spiegare esattamente perché valeva la pena di investire in Europa e la domanda classica era voglio investire in Europa dove sono i bond europei e non era facilissimo rispondere fino a qualche mese fa adesso la risposta c'è e quindi abbiamo se volete siamo entrati in una abbiamo assecondato una domanda che comunque c'era ed era molto forte e quindi io credo che se noi mettiamo assieme tutti questi pezzi è cambiata non solo l'articolazione della gira di politica economica tra il livello europeo e il livello nazionale cioè molto delle funzioni allocative e macroeconomiche sono chiaramente passate a livello europeo per il semplice motivo che questo tipo di crisi sono globali e quindi europee e poi globali e quindi chiaramente è più efficiente farle lì è cambiato anche l'articolazione pubblico e privato nel senso che il privato è molto più coinvolto in tantissime in tantissime politiche tipo appunto quelle sulla sostenibilità eccetera eccetera ma poi è cambiato moltissimo e questo credo che sia davvero il vero cambiamento è cambiato moltissimo l'impatto delle istituzioni europee sulla politica economica e un impatto che ripeto i cittadini e i mercati sembrano apprezzare i mercati l'ho detto i cittadini ed ieri la notizia uscita sul Guardian che addirittura il 60% degli inglesi pensa che l'agire dei britannici scusate che l'agire della politica economica dell'agire dell'Unione Europea in termini di politica economica e sociale sia stato molto positivo da aprile a oggi percentuale molto maggiore di quanto gli inglesi pensano sia stato positivo l'agire del loro stesso governo quindi andare a citare un numero così alto il 60% è storicamente il numero più alto in Gran Bretagna da sempre credo che abbia sia indicativo di come davvero il passo è cambiato grazie a me piange veramente il cuore a vedere che purtroppo il tempo ci porta alla conclusione perché stiamo ascoltando dei ragionamenti interessanti che sono tutti dei punti di partenza per ulteriori riflessioni a partire dal momento marshaliano e hamiltoniano perché poi c'è anche il momento rusveltiano se vogliamo continuare nella filiera americana con il Green Deal che è una specie di New Deal rusveltiano applicato all'Europa e applicato al futuro ma continuiamo a guardare l'Europa e non soltanto al di là dell'Atlantico per ricordare in chiusura che come è stato detto è più efficace quando l'azione viene trasferita da livello nazionale a livello europeo in tante circostanze e per esempio è di una settimana fa la notizia che la Presidente von der Leyen ha lanciato questa nuova iniziativa che è l'Unione Sanitaria Europea e quindi la proposta di mettere insieme una serie di risorse e di strumenti per prepararsi meglio alle prossime crisi proprio dal punto di vista della salute e della sanità per esempio con una sorveglianza fatta in tempo reale anche con intelligenza artificiale di future crisi di future epidemie per esempio con la costituzione di riserve europee di medicinali oppure di riserve di task force di medici che possano andare ad aiutare i paesi più in difficoltà o ancora la possibilità di far scattare un'emergenza europea da parte delle istituzioni o di chiedere a ciascun paese di presentare dei piani nazionali in modo da essere pronti alle prossime epidemie e alle prossime pandemie pensate soltanto a 20 anni fa o a 15 anni fa quando c'era la convenzione europea che doveva riformare i trattati esistenti se si fosse parlato di rafforzare le competenze europee nel campo della salute ci sarebbe stato un ovvio e scontata una scontata opposizione adesso tutti vogliono più Europa nel campo della salute più Europa nel campo della protezione civile anche qui c'è la proposta di rafforzare le strutture europee il coordinamento fra le protezioni civili nazionali e più investimenti nelle infrastrutture di crisi quindi l'Europa sta crescendo anche da questo punto di vista anche dal punto di vista di queste sfide nuove che ci costringono a dotarci di strumenti nuovi e senza dimenticare la ricerca scientifica di cui abbiamo parlato perché con Horizon Europe l'Europa avrà il secondo più grande programma di ricerca scientifica al mondo secondo soltanto dopo la National Institute of Health e con una cifra tra gli 80 e i 90 miliardi di euro che ribadisce il fatto che siamo comunque una superpotenza scientifica oltre ad essere una superpotenza ambientale oltre ad essere la seconda moneta più forte nel mondo e uno dei più grandi mercati del mondo quindi un po' di orgoglio europeo in chiusura ci sarà ci sarà consentito ci sono stati tantissimi spunti non posso citarne alcuni perché fare il torto ad altri ma mi sembra di poter concludere che da tutti questi interventi mi sembra evidente che sia guardando al mondo privato sia guardando al mondo del pubblico ai talenti al ruolo della scienza e all'analisi che è sul campo abbiamo tutto il potenziale per preparare un'Europa e un mondo futuro più resiliente e più sostenibile il potenziale c'è ce lo chiedono i cittadini ce lo chiede la next generation che sarà fatta in futuro da futuri shareholders e da futuri stakeholders sta a noi preparare tutti insieme questo futuro ripeto il potenziale c'è bisogna mettere insieme questi ingredienti sotto la giusta guida con il giusto mix e provare a giocare questa partita perché questo è il nostro pianeta e non abbiamo alternative evidentemente bene grazie Massimo Gaudina e ai nostri ospiti consentitemi in chiusura di questa sessione direi straordinaria di toccare brevissimamente tre punti il primo è un po' dolente vale a dire rispetto a questa capacità questa resilienza che l'Unione Europea ha dimostrato in questa occasione noi dobbiamo guardare anche al fatto che vengono mobilitati e verranno mobilitati in futuro finanziamenti e fondi e facilities veramente di grandissimo di grandissimo importo e rilevanza ma che purtroppo nel nostro paese dobbiamo verificare che c'è una certa carenza nella capacità di utilizzazione di questi fondi se ne parla anche in questi giorni ma è un tema ricorrente e quindi è un tema fondamentale quello di capire in che modo i fondi che verranno messi a disposizione che sono il supporto che l'Europa dà a tutti i paesi in Italia non vengono utilizzati in gran parte o vengono utilizzati con ritardo e quindi poi decadono questo è un punto sul quale magari in futuro noi potremo tornare un secondo punto invece molto più credo positivo da questo punto di vista è il fatto che effettivamente l'Unione Europea in questi mesi ha dimostrato di dare il meglio di se stessa forse dobbiamo arrivare a pensare che l'Unione Europea dà il meglio di se stessa nelle difficoltà dopo la guerra nel momento della costruzione europea ha dato veramente il meglio di sé poi c'è stato forse un periodo di troppo di eccessivo assestamento per cui sembrava che in certi momenti e questo ha scatenato reazioni non indifferenti fossero più importanti le normative tecniche sulla spina e sulla unificazione delle spinette da infilare nel muro che non invece il cosiddetto deficit democratico all'interno dell'Unione Europea queste storture che si sono verificate nel momento forse in cui era più facile gestire le cose sono state probabilmente superate ma sicuramente in questo momento l'Unione Europea sta dimostrando di avere una capacità di leadership che solamente due, tre, cinque anni fa era insospettata infatti dava vita anche a delle rimostranze delle proteste che tutti conosciamo e il punto forse decisivo in una vicenda di questo genere è che stiamo verificando effettivamente che pubblico e privato come avete detto in maniera estremamente chiara devono collaborare in una maniera diversa naturalmente quando si parla di una presenza maggiore dello Stato nell'economia non dobbiamo pensare spero che non si pensi a un ritorno a delle antiche forme di dirigismo che hanno lasciato veramente molti molti danni che ancora forse adesso dobbiamo in qualche modo affrontare ma si parla di una presenza più consapevole in cui lo Stato è comunque lo Stato regolatore e non lo Stato azionista all'interno di determinate realtà o lo Stato che si ingerisce in una maniera eccessiva nella realtà economica non è un richiamo evidentemente al reganismo al tacerismo piuttosto che non alla scuola di Chicago è veramente un cercare di capire in che modo lo Stato e il mercato possano collaborare in una maniera più efficace evitando le strutture che si siano viste in un capitalismo che ha perso un pochino la bussola negli ultimi decenni per andare nella direzione che è stata da voi chiarissimamente indicata anche questo è un punto che avremo bisogno di sviluppare ancora e il terzo elemento che semplicemente richiamo è quello che è stato ricordato ossia dello strategic foresight che per quanto ci riguarda come festival del futuro ma anche come progetto macro trends è qualcosa di assolutamente coerente con quello che noi stiamo cercando di fare e di conseguenza dico a Massimo Gaudina piuttosto che a Mario Nava ma anche a Enrico Giovannini e a Maria Perdichi noi speriamo veramente che nel 2021 potremo avere qui con noi il Joint Research Committee qualcuno che lo rappresenti che ci porti le informazioni su quanto viene fatto e che questa le strategic foresight che fa che sostanzialmente il lavoro che noi facciamo da diversi anni sugli scenari ecco ci possa essere un supporto uno scambio e che quindi ci sia anche questa presenza molto forte della Commissione Europea quindi io ringrazio moltissimo veramente Mario Nava Enrico Giovannini Maria Pierdichi Massimo Gaudina vi do appuntamento appuntamento a tutti a domani mattina alle nove per la prima sessione sarà sulla tecnologia in particolare l'Italia tecnologica e poi avremo tutta la giornata molto intensa e quindi grazie per essere stati con noi fino adesso e arrivederci grazie a tutti